e non è bravo a 1.000 euro di più, quindi 170.000 per 25 metri quadri con una rampa dispersa ma siete fulminati nel cervello grazie e fra un momento iniziamo questo seminario questo evento che è l'ultimo evento del centro Levicar io sono Alberto Bertucco, sono il direttore del centro un centro che conosciamo ormai tutti penso che si occupa di energia, economia e tecnica dell'energia ma ormai da qualche anno, economia e tecnica della transizione energetica e della transizione alle rinnovabili oggi abbiamo organizzato l'ultimo incontro di questo ciclo che è iniziato a marzo e in questo ultimo incontro abbiamo il piacere di ospitare il grande professor Nicola Armaroli che tutti penso conosciamo ma che adesso brevemente introdurrò che ci parlerà di questa emergenza energia non abbiamo più tempo i nostri incontri sono di diversa natura certe volte facciamo delle tavole rotonde altre volte invitiamo dei relatori questo seminario vuol dire che noi avremo una presentazione da parte del professor Armaroli alla fine della quale ci saranno una sessione di domande e risposte chi vuole da casa fare delle domande è pregato di segnalarlo in chat noi teniamo conto delle vostre domande per cui le domande verranno fatte dalla sala e da casa a seconda delle richieste che arrivano un'altra cosa che devo dire no, ci siamo organizzati ci siamo questa è la riunione di oggi quindi io non è che qui siamo a posto come collegamenti quindi invito il professor Armaroli a sedersi vicino a me intanto vi dico che appunto il professor Armaroli è dirigente di ricerca al CNR membro di varie accademie ha scritto 8 libri ha fatto più di 200 pubblicazioni scientifiche sui temi dell'energia insomma come divulgatore scientifico penso che lo conosciamo tutti quindi è un grande piacere che oggi sia qui tra noi lo ringraziamo per la sua disponibilità di essere all'università di Padova e niente io potrei rincarvi tutti i premi e le cose che ha ricevuto magari se vuole lo farà lui però la cosa più importante oggi per noi come centro ovviamente è quella di approfondire la situazione della transizione energetica alla luce di quello che sta succedendo da tre mesi che si era inaspettato ma comunque insomma lascio al professor Almaroli il compito di trattare questo aspetto questo problema con diciamo grosso modo l'idea di arrivare sui 45 minuti come esposizione ma comunque come tu ritieni e poi appunto ci sarà sicuramente una discussione sulle cose che tu ci avrai detto grazie ancora grazie all'università di Padova grazie nostro e a te la parola grazie tante per questa presentazione e grazie al professore per questa presentazione e vado sto in piedi preferisco mi sentite? sì preferisco stare in piedi più faticoso però è più è meglio però devo stare qui mi dicono un po' più in qua ok benissimo bene il titolo è appunto emergenza e energia non abbiamo più tempo per dare appunto l'idea di questa urgenza stiamo percependo tutti quanti anche alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi bene quando parlo di questo argomento proposto di urgenza proposto di tempo è sempre utile andare a vedere quello che è il trend del consumo energetico del genere umano stimato negli ultimi 5 mila anni più o meno da quando abbiamo lasciato tracce scritte vedete il consumo energetico è bassissimo è stato bassissimo per secoli millenni poi a un certo punto abbiamo cresciuto vorticosamente il consumo di energia e il secolo diciamo del boom è stato il ventesimo secolo se guardate questi numeri fanno abbastanza impressione quindi chiaramente è stato il secolo del grande salto però anche nel corso del secolo attuale mi sono fermato al 2019 pre-covid vedete i numeri fanno abbastanza impressione il consumo elettrico è più che raddoppiato dal 2000 ad oggi e quindi la domanda è se può durare per sempre l'idea di stare fin qui noi speriamo di sì perché chiaramente la qualità della vita qua su è molto meglio che qua giù però con questo tipo di fornitura basata principalmente sui fossili la risposta sappiamo che è no se non altro per ragioni di stabilità climatica oltre che di disponibilità quindi oggi com'è il sistema energetico che abbiamo ecco è fatto è fatto così il consumo mondiale di energia primaria quindi quella che poi convertiamo in varie in varie forme utili è questo più dell'80% fossili e poi abbiamo abbiamo queste altre fonti ciascuna meriterebbe un commento a parte ma non abbiamo tempo questo numero qui è il più basso di tutti però dico sempre a questo punto che non so vent'anni fa più o meno quando ho cominciato a far vedere questo grafico questo numero era 0,2 quindi è aumentato i 10 volte quindi sta crescendo in maniera importante però certamente per andare a scalfire questo ci vorrà molto anche perché noi siamo inchiodati qui da decenni da decenni questo è il principale responsabile del riscaldamento globale con queste emissioni di CO2 numeri che ormai sono un po' nella conoscenza collettiva quali sono gli scenari del riscaldamento globale secondo quello che ci dicono i colleghi climatologi noi attualmente abbiamo aumentato la temperatura grazie alle attività umane di circa 1,1 rispetto a quello che sarebbe stato il suo trend naturale questo vuol dire che se noi qui abbiamo gli anni naturalmente qui abbiamo le emissioni annuali di CO2 senza alcuna politica climatica siamo destinati ad arrivare ad aumenti di temperatura di circa 5 gradi questo è uno scenario che definirei catastrofico che non vogliamo neanche immaginare di non fare nulla con le attuali politiche abbiamo la possibilità di arrivare a circa 3 gradi quindi dobbiamo fare meglio perché questo comunque è uno scenario disastroso e quindi lo scenario che ci resta che io definisco obbligato è questo quello che ci siamo imposti di rimanere sotto circa arrivare a circa massimo 2 gradi però attenzione perché 2 gradi vuol dire il doppio di adesso quindi noi ci stiamo impegnando sperando di farcela e avendo anche il timore di non farcela per arrivare comunque a una situazione climatica che sarà ben peggiore dell'attuale quindi noi non stiamo lavorando per fare in modo di rientrare diciamo nella normalità naturale purtroppo stiamo semplicemente lottando come dei disperati per arrivare a una situazione climatica molto peggiore di questa dove saranno maggiori gli eventi estremi eccetera quindi questo è lo scenario con cui ci dobbiamo confrontare che implica l'adattamento al cambiamento climatico una osservazione che viene spesso fatta è questa mi dicono ma perché noi dobbiamo fare tutti questi sforzi come Unione Europea per diminuire le emissioni quando i colpevoli sono gli altri purtroppo dietro questa affermazione manca una considerazione fondamentale cioè che la CO2 è una molecola stabile una molecola stabile per secoli nell'atmosfera e quindi c'è una responsabilità storica i 420 e passa ppm che abbiamo adesso hanno dei responsabili dei nomi dei cognomi se andiamo a vedere le emissioni dal 1800 1850 vediamo che Stati Uniti Unione Europea e il resto di Europa sono responsabili di più dell'80% quindi noi siamo oggettivamente i maggiori responsabili per intenderci la CO2 che ha messo nostro nonno nostro bisnonno in atmosfera in gran parte ancora lì se noi andiamo a sommare a questo il resto diciamo del mondo ricco questi paesi andiamo a sommare un altro 10% circa il restante il restante 8% che sta qui giù sono tutti gli altri tutti gli altri vuol dire tutta l'Asia tutto il Medio Oriente tutta l'America del Sud e tutta l'Africa quindi è vero che la Cina deve fare grandi sforzi ma non è vero che la responsabilità è della Cina cioè se il problema fossero le emissioni cinesi noi in realtà non avremmo nessun problema cioè con le emissioni cinesi complessive attuali noi non avremmo nessun cambiamento climatico quindi attenzione perché la responsabilità è nostra quindi abbiamo una responsabilità storica legata alla natura chimica del CO2 sulla quale dobbiamo agire anche perché siamo i più ricchi e quelli che hanno la possibilità di poterlo fare di cambiare sistema noi poi abbiamo un sistema energetico che è molto inefficiente e lo si vede bene da questo diagramma pubblicato ogni anno dal da Lawrence Livermore e qui ci sono le fonti del sistema energetico degli Stati Uniti quello europeo non è molto diverso però è più difficile trovare dati aggregati per l'Europa e qui abbiamo il petrolio le biomasse il carbone eccetera quindi qui abbiamo le fonti americane qui abbiamo i settori di utilizzo residenziale commerciale industriale dei trasporti ma il numero su cui voglio attraere la vostra attenzione è quello finale cioè nel sistema energetico americano il 65% dell'energia viene perso cioè non diventa un servizio energetico utile questo input che entra e solo il 32% viene utilizzato dall'utilizzatore finale l'esempio più clamoroso su cui voglio attraere la vostra attenzione è quello dei trasporti il petrolio vedete questa riga verde grande qua viene utilizzato per la maggior parte nei trasporti circa l'80% ma a sua volta circa l'80% viene sprecato perché noi lo andiamo a infilare questo petrolio raffinato nei motori di combustione che hanno efficienze tra il 20 e il 30% mediamente e quindi buttiamo via la buona parte di quello che estraiamo quindi la maggior parte del petrolio in realtà che noi utilizziamo viene buttato via sostanzialmente questo è una situazione che è insostenibile e noi dobbiamo assolutamente cambiarla quindi il cambiamento nei trasporti è prioritario l'inefficienza si può anche stimare scusate questi caratteri ma siccome l'ho fatto col MEC ci sono dei conflitti di carattere si può stimare e anni fa avevamo fatto questo grafico sul consumo di energia primaria e qualità della vita prendendo un parametro che è la mortalità infantile è un classico parametro di qualità della vita avremmo potuto metterci degli altri indici di alfabetizzazione indici di sviluppo umano il trend sarebbe stato lo stesso quale? se qui andate a mettere il consumo energetico a persona all'anno e qui andate a mettere il parametro mortalità infantile in questo caso vedete che paesi con basso consumo energetico quindi qui a sinistra hanno un'alta mortalità infantile aumentando il consumo energetico seguite più o meno il mio pointer avete un andamento di questo tipo quindi aumentando il consumo energetico è un concetto molto semplice dicevo appunto questo grafico fa vedere un trend importante arrivati a questo punto vedete se voi continuate ad aumentare il consumo energetico come si fa in questi paesi noi non aumentate non diminuite la mortalità infantile quindi non aumentate la qualità della vita e qui c'è proprio l'Italia tra l'altro in Italia la mortalità infantile è inferiore parecchio anche rispetto agli Stati Uniti ma consumiamo circa un terzo dell'energia quindi potremmo dire che da qui in poi in realtà non è un consumo energetico è uno spreco poi ci sono situazioni locali legate ai paesi con grandi consumo energetico dovute a condizioni climatiche o a grandi distanze chilometriche comunque questo trend in generale è abbastanza netto e sostanzialmente da qui in poi a circa 2,8 tonnellate equivalente di petrolio a persona è un livello ideale oggi all'attuale livello di efficienza di consumi perché dopo di quelli in realtà sostanzialmente c'è uno spreco quindi questo numero andrebbe scolpito negli uffici dei primi ministri dei presidenti di tutti i paesi per dire cerchiamo di stare qui dentro per essere in qualche modo sensati la transizione energetica è una necessità è evidente da quello che ho appena detto è evidente a tutti ormai e una caratteristica della transizione energetica se possiamo far eliminare la barra in alto ecco perfetto grazie è che noi siamo in realtà in transizione energetica da tempo non è una novità di adesso l'umanità è in transizione energetica più o meno dal 1800 quando si andava tutti quanti a legna biomasse tradizionali poi è cominciata la conversione al carbone questo è il consumo energetico percentuale evidentemente non assoluto quindi il carbone ha progressivamente sostituito le biomasse poi è arrivato il petrolio le biomasse hanno continuato a calare nel tempo quindi il petrolio ha sostituito integrato il carbone poi il gas eccetera quindi vedete la transizione dal carbone da zero più o meno al suo massimo ci ha messo circa cent'anni un secolo esatto allora qual è il problema che noi abbiamo oggi? il problema è questo cioè non va più avanti vengo lì ma è proprio bloccata si è bloccata la presentazione oddio intanto io continuo a raccontare questo slide qua il nostro problema è che abbiamo non abbiamo cent'anni a disposizione per la transizione ne abbiamo circa 30 e l'altro problema è che a differenza della transizione al carbone quando c'erano due miliardi di persone oggi siamo 8 miliardi quindi abbiamo un sistema energetico globalizzato interconnesso e molto più complesso perfetto grazie e questo rende tutto terribilmente più complicato la buona notizia invece è che noi abbiamo un pianeta che ha tanti problemi ma certamente non ha quello della disponibilità di energia perché è letteralmente invaso da un flusso energetico enorme ed ha anche uno stock energetico enorme nel sottosuolo il cerchio giallo rappresenta relativamente parlando la quantità di radiazione solare che colpisce la superficie terrestre in un anno questo è il consumo invece energetico annuale mondiale adesso siamo a 19 qui c'è 16 non cambia nulla questi sono altri flussi energetici rinnovabili stimati annuali quindi vento biomasse eccetera e questo invece è lo stock complessivo totale di carbone uranio petrolio e gas se voi fate la somma di tutti i cerchietti piccoli non riuscite a fare il cerchione grande giallo quindi in realtà noi abbiamo un'enorme quantità di energia la maggior parte di queste radiazioni solare la maggior parte poi dei flussi energetici che ci colpiscono sono di origine solare perché anche il vento è un'origine solare indiretta l'idroelettrico è un'origine solare indiretta la biomassa pure e così via quindi il sole è la nostra grande risorsa di combustibili fossili sono energia solare e fossile quindi la maggior parte di tutti questi bei cerchietti sono energia solare al di là di quello il messaggio che non passa è che la quantità di flussi rinnovabili è immensa cioè voi fate una discussione ma anche su non necessariamente al bar voglio dire anche una tavola rotonda un dibattito magari la presenza di un giornalista non particolarmente preparato salta fuori che le rinnovabili non bastano ora capite che è un'assurdità totale non è il problema che le rinnovabili non bastano le rinnovabili ne abbiamo finché vogliamo semmai il problema è tecnologico di conversione quello sì di questo dobbiamo parlare ma le rinnovabili sono semplicemente sterminate ma questo messaggio assolutamente non passa un'altra cattiva notizia è che purtroppo siamo indietro perché se andiamo a vedere i tre settori riscaldamento raffrescamento trasporti ed elettricità l'uso del rinnovabile in questi tre settori che fanno complessivamente il 100% è 10% nel riscaldamento e raffrescamento sto parlando di dati mondiali trasporti molto deprimente siamo sotto al 4% mentre elettricità la buona notizia è che diciamo quasi il 30% dell'elettricità mondiale è già prodotta con le rinnovabili quindi questo numero da tenere ben presente e comincia a farci capire che la elettrificazione è un processo importante perché noi sappiamo già come fare l'elettricità rinnovabile quindi più elettrifichiamo più abbiamo contributo rinnovabile perché abbiamo già le tecnologie disponibili tecnologicamente e pronte sul mercato e l'Italia per venire a noi dove siamo? questo è un diagramma analogo a quello che vi ho fatto vedere prima un po' diverso ma insomma il concetto è lo stesso dell'Italia dove qui ci sono le fonti energetiche del sistema italiano che è stato pubblicato dal governo l'anno scorso dove questo è il gas questo è il petrolio questo è il carbone e questo giallino il sole ricordatevi questa diapositiva perché ve ne faccio vedere un'altra dallo stesso documento alla fine al 2050 sarà molto diversa quindi noi siamo un paese che dipende tantissimo dal gas lo abbiamo capito tutti e dal petrolio anzi abbiamo una dipendenza quasi unica pensate che siamo l'unico paese del G8 e anche l'unico paese dell'Unione Europea dove il gas ha una percentuale nell'uso primario del 40% la media europea del 25% qui noi abbiamo una dipendenza che potremmo dire quasi patologica dal gas che ha delle origini storiche che oggi non ho tempo di stare qui a discutere comunque questo è questo è il numero se andiamo a vedere gli altri paesi europei secondo me ci sono dei dati interessanti la Germania dipende ancora principalmente dal petrolio poi c'è il gas ma c'è ancora il carbone che era importantissimo negli anni 60 perché la Germania semplicemente il carbone ce l'aveva in Spagna ancora il petrolio è molto dominante cioè un portafoglio un po' da come dire anni 80 però insomma così è anche il gas è cresciuto ma non di tantissimo la Gran Bretagna ha una grande importanza di idrocarburi perché li aveva nel mare del nord la Gran Bretagna è stata per una ventina d'anni abbastanza autosufficiente da questi giacimenti però la situazione è cambiata sta aumentando ad esempio molto il vento in Gran Bretagna in Francia invece la prima fonte energetica primaria è il nucleare ora a me suscitano sempre due pensieri questi grafici allora il primo ci fanno capire perché noi non riusciamo mai a metterci d'accordo quando andiamo a Bruxelles per cercare una politica energetica comune perché? perché abbiamo un portafoglio diverso quindi ognuno ha un sistema diverso e partiamo da presupposti diversi e quindi cercare di mettere a comune questi presupposti diversi è estremamente complicato primo secondo un numero che mi fa molto riflettere è questo francese lasciatemi dire questa cosa noi dobbiamo sperare la probabilità è remota chiaramente però dobbiamo sperare che non accada un incidente nucleare in Francia perché? perché è un paese che dipende così fortemente dal nucleare un paese così importante economicamente per l'Europa ma anche per l'economia mondiale sarebbe un bel problema se penso a quello che è successo in Giappone undici anni fa quando nel paese in cui la gente è molto disposta diciamo a obbedire alle regole e alle indicazioni del governo e di chi amministra il paese si è rivoltata contro il nucleare dopo l'incidente di Fukushima provate a immaginare i francesi che sono noti per andare in piazza anche per ragioni non particolarmente così importanti cosa potrebbe succedere in Francia se ci fosse un incidente serio questo sarebbe un problema enorme per l'economia europea e non solo per l'economia chiaramente ma pensiamo solo a questo in questo frangente quindi questo numero secondo me deve farci molto 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 pensare comunque se volete dopo ne possiamo parlare noi tornando a noi come dire solo la Russia ci batte la Russia ha una dipendenza dal gas superiore al 50% ma vabbè la Russia il gas ce l'ha ne ha quanto ne ha queste sono le sue riserve estimate che equivalgono a 58 anni di produzione se uno va a vedere la produzione del gas russo negli ultimi anni vede che ha raggiunto un plateau e io credo che anche questo argomento è molto mancato nella discussione di questi mesi però secondo me anche i russi cominciano a capire che il gas siberiano è tantissimo ma non è infinito e anche questo credo che sia un elemento utile alla riflessione si parla sulla possibilità che la Russia abbia un cliente alternativo rispetto a noi che è la Cina vedete noi andiamo a prelevare il gas che arriva in Europa da questi giacimenti di Urengoi e Yamal principalmente che si trovano qui nella Siberia settentrionale vedete questi tubi sono una connessione che è stata stabilita nel corso di decenni addirittura quando eravamo arci nemici cioè la Russia ha cominciato a costruire la Russia e l'Europa hanno cominciato a costruire insieme questi gasdotti e dare via questi rifornimenti quando eravamo arci nemici cioè con una mano ci davano il gas e con l'altra ci puntavano i missili contro io che ero facevo il liceo negli anni 80 mi ricordo che protestavamo contro i missili russi era così ci davano il gas e ci puntavano i missili quindi noi non abbiamo mai messo in dubbio che questo gas potesse venire meno se è successo in quell'epoca là poi è arrivato Putin insomma sono successe una serie di cose che nel caso di stare ad approfondire comunque vedete è chiaro che questi connessioni hanno creato una serie di legami economici ed interessi molto forti che è difficile dalla sera alla mattina andare a cambiare lo vediamo quotidianamente la Russia ha cominciato a vendere anche gas alla Cina ma attenzione perché non lo vende da questi giacimenti ma da quelli della Siberia meridionale attraverso questo gasdotto qua noi lo prendiamo da qua e lo fa attraverso questo gasdotto che è entrato in funzione nel 2019 c'è un progetto per fare un gasdotto che colleghi la Cina ai giacimenti che citavo prima ma attualmente è sulla carta quindi al momento non c'è possibilità che la Russia giri il rubinetto e lo mandi verso la Russia e questo è un altro fattore importante di cui dobbiamo tenere conto nella discussione di cui non si parla abbastanza noi chiaramente dobbiamo cominciare a pensare l'uscita progressiva dal petrolio è un'uscita diciamo dolorosa il petrolio è una cosa estremamente comoda io da chimico io rimango ammirato dalle proprietà del petrolio però e la transizione del petrolio come vedevamo all'inizio coincide principalmente non esclusivamente ma insomma principalmente con la transizione del mondo dei trasporti quindi dal punto di vista concettuale è meno difficile della transizione dal gas vedremo tra un attimo perché il petrolio è legato per più dell'80% ai trasporti quindi oggi cosa possiamo fare quello che possiamo fare oggi innanzitutto è una elettrificazione ovunque possibili sulle automobili sicuramente quindi sui mezzi leggeri sul trasporto pubblico locale e sulle ferrovie io ragionavo stamattina venendo in qua sono venuto a Padova tutto elettrico ho un'auto elettrica sono andato alla stazione ho preso un treno elettrico arrivato alla stazione ho preso un tram elettrico e sono arrivato qui qui davanti e quindi insomma è possibile si può fare nei paesi più moderni queste cose accadono già domani cosa bisognerà fare bisognerà fare idrogeno e combustibili sintetici perché per far andare treni navi ed aerei la questione è molto più complicata cioè elettrificare navi ed aerei è una sfida non ho tempo di approfondire che è estremamente difficile quindi probabilmente l'ultima goccia di petrolio la utilizzeremo per far funzionare un aereo e un giorno forse avremo combustibili sintetici ma per fare questo ci servirà l'idrogeno in ogni caso il requisito comune di tutto quello che è indicato sommariamente qui è un enorme aumento della produzione elettrica rinnovabile perché per fare idrogeno sostenibile l'unico modo è farlo con elettrolizzazione per quanto riguarda il trasporto leggero ormai diciamo la partita è finita l'elettrificazione a batteria è sicuramente l'opzione di scelta per una serie di ragioni la rete elettrica è ovunque uno la macchina ma anche la bicicletta il monopattino la moto la può caricare a casa propria difficilmente potrà caricarci il camion la stazione di ricarica quindi uno sostanzialmente se ha un garage o una cantina ce la può avere e il costo per l'utente è imbattibile nel senso che l'elettricità anche oggi i prezzi attuali dell'elettricità e dei combustibili fare il pieno elettrico a casa tua ti costa la metà che fare il pieno a benzina forse oggi con gli aumenti sono stati negli ultimi giorni anche meno ho stimato molto così in maniera molto grossolana che se al 2030 30-35 avessimo il 35% di auto a batteria e plug-in hybrid queste ultime non mi piacciono se volete dopo vi spiego perché comunque per essere diciamo pratici lo considerate noi avremo un aumento di richiesta elettrica di 30 terawattora che non è tanto perché già oggi in Italia noi produciamo quasi 120 terawattora oggi adesso da rinnovabili quindi farne 30 nel giro di 10 anni dedicarli solo al trasporto è una opzione assolutamente fattibile ma soprattutto noi risparmieremo 140 terawattora di petrolio perché? perché l'auto elettrica è 4 volte più efficiente dell'auto termica questo banalmente è la ragione l'auto a batteria intendo ovviamente poi ci sono i dilemmi del trasporto pesante appunto camion navi train aere io non ho tempo di entrare in questi dettagli però vi voglio invitare a considerare questi numeri che di solito faccio vedere l'anno scorso vi ricordate che si incagliò a Suez questa nave questa è la sua stazza e questo è il tempo che ci mette per andare dalla Cina all'Europa una nave di questo tipo io non lo sapevo mi sono documentato così consuma pensate per fare un viaggio Shanghai Genova Shanghai Rotterdam consuma 9000 tonnellate di gasolio se noi la volessimo far andare a idrogeno dovremmo cambiare la nave quindi sto semplificando molto voglio solo che consideriate i numeri energetici per capire non andrebbe in questa nave comunque se fosse idrogeno servirebbero circa 3000 tonnellate di idrogeno liquido a 252 grandi sotto zero per fare questo con elettricità servirebbero 150 gigawattora di elettricità ora è tanto o è poco è un bel po' perché se voi prendete il più grande elettrolizzatore al mondo che funziona esclusivamente a rinnovabili con un impianto fotovoltaico da 18 etari collegato all'elettrolizzatore da 10 megawatt questo impianto qua per alimentare questa nave qua un viaggio un solo viaggio di questa nave dovrebbe lavorare pensate senza mai fermarsi un attimo tre anni consecutivamente ora è evidente che abbiamo un problema e lo vedete se andate a vedere il traffico marittimo attuale in tempo reale su questo sito vedete una figura come questa cioè le navi che solcano i mari cargo grandi navi crociera eccetera sono queste qua e quindi la domanda che io mi pongo dopo aver visto quel numero che avevo appunto stimato è questa cioè noi dobbiamo pensare a fare una sostituzione uno a uno di una nave container da gasolio a idrogeno o dobbiamo ripensare il nostro sistema energetico e far girare meno navi che equivale a dire riportare la produzione vicino al consumo guardate che questa considerazione fa capire la differenza che c'è tra una transizione energetica sostituzione uno a uno delle navi e una transizione ecologica che vuol dire ripensare il sistema perché non è più sostenibile qualunque tipo di fonte energetica tu utilizzi ecco su questo bisognerebbe che tutti riflettessimo in maniera molto profonda per approfondire questi argomenti vi invito a scaricarvi sul sito del ministero dell'infrastruttura e delle mobilità sostenibili il rapporto che abbiamo preparato per il ministro che ha presentato che ha presentato oggi tra l'altro a Parigi nella sua versione inglese l'abbiamo preparato come gruppo di tecnici che vedete indicati lì e questa è a disposizione di tutti dà un'idea di quelle che sono le opzioni tecnologiche cioè quello che si può fare è quello che si può fare ma è meno probabile farlo per ragioni tecniche ed economiche penso che sia un contributo che valga la pena dargli un'occhiata dicevo l'uscita dal gas è più complicata perché per uscire dal gas i settori coinvolti sono almeno tre sono il residenziale la produzione elettrica e l'industria in parole povere per fare la transizione del gas dobbiamo andare a rompere le scatole a tutti i cittadini a tutti i produttori di elettricità e a tutti gli industriali soprattutto quelli dell'industria pesante capite che delle abitudini consolidate le andiamo a smuovere e quindi cambiare questo è difficile e infatti poi non si trova l'accordo su come sostituire il gas russo è anche legato al fatto che è innestato nell'economia e nella vita delle persone in modo talmente profondo che non è che dalla sera alla mattina possiamo cambiare il 40% della fornitura non lo possiamo fare e quindi in Italia abbiamo anche un problema in più noi io quando la faccio sempre vedere i più vecchi se la ricorderanno probabilmente questa col seno di poi possiamo giudicarla una delle pubblicità più ingannevoli della storia perché è verissimo che il metano ha aiutato il progresso economico di questo paese e non solo per carità ci mancherebbe altro che negassi questo però è stata fatta un'estrema semplificazione cioè questo combustibile è un combustibile fossile come gli altri e con tutti i problemi del caso non emette solo vapor d'acqua come alcuni ancora pensano ma siccome lo bruciamo in aria e non in ossigeno pure emette ossidi di azoto quindi anche ozono di conseguenza e polveri ultrafini è un gas serra che è decine di volte più potente della CO2 e ci siamo accorti che l'infrastruttura del gas a livello mondiale perde tanto gas il gas dotto russo ha delle perdite enormi soprattutto la sua in Siberia perché non è manutenuta adeguatamente le nostre città perdono pensate che ci sono milioni di chilometri di condotte milioni perché passano da quella Siberia che vi facevo vedere prima fino alla casa di ognuno delle singole persone non la mia o la sua che abbiamo la pompa di calore ma di milioni di persone quindi anche le caldaie non bruciano il 100% del metano una parte è in combusto e quindi questo crea un altro problema noi ormai sono dati che conoscono tutti perché come dire sono stati macinati dai giornali l'Italia è fatta così col gas ha 5 punti di ingresso 3 al nord quello di Gorizia è minoritario comunque abbiamo il Tarvigio e la Russia qui abbiamo il mare del nord in Piemonte e poi abbiamo gli ingressi del gas africano algerino mazzara del vallo e libico a Gela più quello del TAP a Melendugno in Puglia vedete che qui 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 e qui ci sono due freccine una rossa e una blu cioè l'Italia in realtà non è solo un importatore di gas ma da qualche tempo da qualche anno i gasdotti italiani sono anche in grado di esportare il gas perché si è creato un mercato europeo del gas che certamente ha degli aspetti positivi però anche degli aspetti un po' strani che le persone non riescono non conoscono per esempio il consumo totale dell'anno scorso è stato questo abbiamo i famosi 29 miliardi di metri cubi dalla Russia che ormai abbiamo imparato tutti abbiamo tutti quanti la cosa interessante è che l'Italia ha prodotto di proprio 3 miliardi di metri cubi perché? perché i giacimenti italiani sono in gran parte esauriti possiamo forse trovare qualche altro giacimento ma non cambieremo le soldi del nostro paese come qualcuno vuol far intendere 3 miliardi però ne abbiamo esportati 1 e mezzo quindi l'equivalente della metà di quello estratto in Italia è stato esportato io non voglio fare l'autarchico qua però voglio far notare che è giusto che la gente lo sappia quindi il mercato è diciamo molto più complicato di quello che appare gli utilizzi sono quelli indicati qua dove abbiamo una quota spropositata 30 miliardi di metri cubi utilizzato per bruciare per produrre elettricità e addirittura 20 miliardi per residenziale quando le soluzioni in realtà esistono già esistono già si possono scaldare le case senza bruciare del metano si può scaldare l'acqua delle case in tantissimi contesti senza bruciare metano però ci hanno convinti che il metano ti dà una mano e quindi per scaldare dell'acqua bisogna per forza bruciare bene non è vero non è vero e quindi la transizione del gas del nostro paese secondo me richiede alcuni punti innanzitutto risparmi il comportamento individuale che sono le cose le uniche cose che possiamo fare immediatamente le uniche le uniche bisogna che questo si è detto chiaramente non ce ne sono altre a effetto immediato e qui possiamo risparmiare 7-8 miliardi considerato l'aumento delle tariffe e la contrazione economica che ci sarà dovuta a questo shock energetico probabilmente potremmo arrivare a risparmiare anche 10 vedremo insomma quindi sicuramente da lì verrà la mano principale nei mesi a venire poi nel medio termine 2-4 anni noi dobbiamo installare almeno 60 giga di rinnovabili autorizzate mi ha sentito parlare ci risparmieremo 15 miliardi piano straordinario per solare termiche pompe di calore penso che sia necessario bisognerebbe parlarne in Italia e questo ci permetterebbe di risparmiare almeno 5 miliardi di metri cubi nel medio termine e il piano straordinario anche per il biometano forse 3 miliardi in più riusciamo a farlo in questo paese poi per il lungo termine le opzioni che appunto conosciamo però sul breve termine ne abbiamo solo una e l'idrogeno adesso sembra che la soluzione miracolosa l'abbiamo trovata ed è l'idrogeno allora certamente è un'opzione importante per accumulare eccessi di produzione elettrica rinnovabile oggi è una giornata splendida avremo una buona produzione rinnovabile non abbiamo ancora l'eccesso da buttarla via in alcuni casi c'è un po' di di questo tipo di azione ma molto limitata quando noi avremo i famosi 70 giga di rinnovabili una giornata come oggi non sapremo dove metterli a mezzogiorno quindi è importante cominciare a programmare l'accumulo stagionale di idrogeno questo sarà possibile però solo dopo il 2030 2035 perché noi non avremo nessun eccesso di rinnovabili prima di un decennio quindi non abbiamo voluto fare le rinnovabili adesso cioè adesso negli ultimi 20 anni negli ultimi 30 anni negli ultimi 10 anni almeno non le abbiamo volute fare è l'utile che ci raccontiamo che abbiamo l'idrogeno non ce l'abbiamo non ci sono le rinnovabili non c'è l'idrogeno è più facilmente per quanto riguarda i suoi pregi e difetti è più facilmente infiammabile ed esplosivo del metano non possiamo non tenerne conto sappiamo maneggiarlo lo viene fatto in grandi quantità però cominciare a distribuirlo diffusamente non è banale va maneggiato a elevatissime pressioni o se liquida 250 sotto zero e questo ha un costo energetico enorme soprattutto la liquefazione comprimere idrogeno costa tre volte più energia che comprimere metano a parità di energia spostata questo è un altro problema non banale quindi dobbiamo farne girare di più rispetto al metano richiede una rete dedicata di trasporto per quanto riguarda i tubi le valvoli i compressori quindi il fatto che qualcuno sostiene che possiamo utilizzare la rete del metano così com'è è un'inesattezza nella rete tedesca questo non viene non viene detto io dubito che i tedeschi siano più indietro di noi noi invece sembra che possiamo mettere il metano e l'idrogeno nei metanodotti domattina ecco su questo io sono parecchio scettico mescolare fare le miscele idrogeno e metano significa diluire il metano perché se andate a vedere la densità volumetrica dei due gas questo è poco sensato ed è improbabile che esisteranno reti estese di trasporto oggi la rete del metano va dalla Siberia a Lisbona è improbabile che noi avremo la stessa rete dell'idrogeno fatta in questo modo perché l'idrogeno non è il metano ci sono ragioni chimiche e fisiche che impediscono queste avremo sicuramente forse delle reti regionali limitate per quanto riguarda l'utilizzo in un'auto in un'auto questo è un utilizzo assolutamente insensato a mio parere lo abbiamo ribadito anche nel report per il ministero perché se voi avete 100 unità di elettricità rinnovabile e avete un'auto a batteria voi lo fate andare nella rete di trasporto arriva la batteria della vostra macchina e alla fine avete un'efficienza che va dal 70 al 90% dipendentemente da quanto è efficiente la rete quanto è distante il punto di produzione dal punto di carica se voi prendete l'auto idrogeno il punto iniziale è lo stesso elettricità rinnovabile il punto finale idem una batteria più piccola ma anche l'auto idrogeno è un'auto elettrica una batteria un motore elettrico ma in mezzo c'è tutto questo ci sono due trasformazioni da idrogeno a elettricità e di nuovo la fuel cell che produce scusate da elettricità a idrogeno e la fuel cell che produce fa il processo contrario è anche la compressione e il trasporto e quindi l'efficienza è molto più bassa è 3-4 volte più bassa e non è tanto distante di quella di un motore termico allora se dobbiamo fare una transizione energetica per ricascare nell'efficienza del motore termico ditemi voi che senso può avere un'operazione di questo tipo e non a caso ci sono più di 100 modelli di auto a batteria sul mercato cioè ci sono due o tre di auto a idrogeno il motivo c'è ed è questo abbiamo pubblicato l'anno scorso quest'articolo col collega Andrea Barbieri per capire la complessità di questa transizione e ci siamo chiesti cosa l'Italia potrebbe fare sull'idrogeno e l'obiettivo di questa di questa analisi era individuare utilizzi prioritari dell'idrogeno verde per l'Italia al 2030 valutare i fabbisioni di elettricità elettrolizzatori acqua e superfici di impianti rinnovabili limitandoci solamente a considerare il fotovoltaico per semplicità e poi esaminare tutto questo alla luce degli obiettivi che ci siamo posti bene i dati utilizzati per fare questa stima sono indicati qua non entro nel dettaglio abbiamo considerato tutto quanto la produzione media dagli elettrolizzatori il consumo energetico guardate che per fare un chilogrammo di idrogeno servono 55 kilowattora di elettricità sono tanti sono tanti insisto per semplicità abbiamo considerato solo il fotovoltaico tre obiettivi che abbiamo individuato sono questi rendere verde l'idrogeno l'attuale produzione di idrogeno grigio nelle raffinerie italiane e quindi mi sembra la cosa più sensata perché già lo facciamo grigio proviamo a farlo verde 480.000 tonnellate convertire gli alto forni di Taranto ad acciaio verde serverebbero circa 300.000 tonnellate di idrogeno e coprire il 2% della domanda nazionale di energie primarie come indicato in quel documento del governo di un paio d'anni fa questo complessivamente farebbe al 2030 1,6 milioni di tonnellate sono tante sono tante vediamo cosa implicherebbe questo 1,6 milioni di tonnellate fatto con elettricità quindi idrogeno verde rinnovabile servirebbero 85 teravattora all'anno cosa vuol dire servirebbero 10 gigawatt di elettrolizzatori considerato che l'Europa ha un target di 40 gigawatt al 2030 si può fare ni diciamo faccina arancione per quanto riguarda la superficie di fotovoltaico servirebbero circa 700 chilometri quadrati e questo non è certamente un problema non è un problema neanche la disponibilità di acqua dolce nonostante l'acqua stia diventando sempre più preziosa però parliamo di numeri piccoli mentre sarebbe un bel problema fare 75 gigawatt di fotovoltaico dedicato a produrre questi 1,6 milioni di tonnellate di idrogeno perché indipendentemente dai piani sull'idrogeno noi dobbiamo aumentare la produzione elettrica rinnovabile di quanto noi siamo al 39% attualmente nel 2019 e dobbiamo arrivare almeno a due terzi quindi dobbiamo arrivare a 200 teravattora di rinnovabili indipendentemente dall'idrogeno e per fare questo dobbiamo produrre 80 teravattora e 70 gigawatt di fotovoltaico vedete i numeri sono praticamente identici a quelli di prima infatti se andate a riassumere salta fuori che riassumendo per i tre usi selezionati scusate per i tre usi selezionati servirebbero questa quantità di energia e per fare solamente più verde l'elettricità italiana servirebbe questa praticamente identiche ora farli tutte e due vorrebbe dire fare 165 teravattora che è circa metà della produzione elettrica totale italiana attuale insomma la domanda è possiamo fare questo in dieci anni è realistico oggettivamente non credo quindi è chiaro che riandando a riprendere questi tre utilizzi abbiamo delle priorità a mio parere questa avrebbe la massima priorità questo sarebbe bello diamo una priorità intermedia su questo beh fermiamoci un attimo perché dobbiamo fare prima tante altre cose cominciare dalle pompe di calore per esempio quindi nel prossimo decennio sicuramente prima l'elettrificazione e poi l'idrogeno verde dobbiamo avere delle idee chiare delle priorità altrimenti se vogliamo fare tutto finisce che non facciamo niente di buono obiettivo al 2030 2035 avere queste vali dell'idrogeno dove questi distretti dove l'idrogeno viene prodotto localmente non viene trasportato chissà dove prodotto localmente da rinnovabili ad alimentare i trasporti ad alimentare anche le abitazioni nel caso e gli utilizzi industriali ecco su questo ci sono delle possibilità però non prima di un decennio lasciatemi dire una cosa poi sul nucleare perché siccome la domanda salta sempre fuori alla fine io non ne parlavo mai ma alla fine vabbè una diapositiva la faccio vedere e il nucleare è un'opzione in Italia allora ho pubblicato su sapere che la rivista che ho l'onore di dirigere qualche mese fa questo editoriale si chiama le chiacchiere sul nucleare e i punti che sollevavo sono essenzialmente questi dove sono i siti in Italia disponibili per fare questa operazione nel 2022 non nel 1960 perché la gente dice ah le abbiamo trovati sì nel 1960 un altro mondo oggi il 94% dei comuni italiani dati ISPRA è a rischio idrogeologico medio alto non è un dato banale non è facile trovarli questi siti dove sono gli investitori perché tutti parlano però alla fine io tutti questi grandi investitori che hanno detto vengo io a investire sul nucleare per il momento non si sono visti Enel si è dichiarata non interessata tanto per dire un player non da poco dov'è il tempo dov'è il tempo se noi lanciamo un programma nucleare adesso prima del 2040 45 non avremo un kilowattora di produzione nucleare ma noi dobbiamo essere già aver già praticamente finito il lavoro a quell'epoca maggiore indipendenza ma di che tipo due terzi dell'uranio minerale attuale viene dal Kazakistan che è un paese sotto l'orbita russa le tecnologie sono in mano essenzialmente a quattro paesi che sono gli Stati Uniti la Russia la Francia il Giappone dov'è questa indipendenza tecnologica del nostro paese quindi anche su questo forse è meglio riflettere poi c'è stata una riflessione ulteriore di questi mesi dove quello che c'è scritto qua è molto significativo cioè noi abbiamo fatto impianti per decenni senza considerare adeguatamente che quegli impianti avrebbero potuto trovarsi un bel giorno nell'ambito di uno scenario di guerra in realtà se uno sfoglia un libro di storia le guerre sono le cose purtroppo più frequenti noi siamo generazioni nate in epoca di pace ma non è la normalità e quindi anche questo tipo di considerazione va fatto e oggi costerà di più fare le centrali nucleari perché verrà richiesto anche come dire un maggiore controllo un maggiore regolamentazione di questo di questo aspetto che è stato in parte trascurato l'ultimo argomento di cui vorrei parlare sono i colli di bottiglie della transizione perché noi ne abbiamo vari e di vario tipo il primo è quello materiale questa è una tavola periodica a cui sono molto affezionato perché è una proposta che ho fatto io nel 2018 alla società chimica europea di rispolverare questa tavola periodica e aggiornarla che è quella che ci fa vedere la carta identità materiale della terra qui gli elementi sono tanto grandi quanto è la loro abbondanza relativa sulla crosta terrestre quindi c'è tanto silice, alluminio e magnesio meno di questa roba qui che tra l'altro è stata ingrandita artificiosamente altrimenti noi non lo vedremo a occhio nudo questa è una scala logaritmica in realtà quindi questi sono molto più piccoli nella realtà rispetto a questi poi ci sono dei colori quelli verdi sono gli elementi per i quali non abbiamo grossi timori di rimanere a secco quelli rossi abbiamo grossi timori di rimanere a secco poi ci sono i colori intermedi lo smartphone bianco indica tutti gli elementi che stanno nelle nostre tasche nel telefono che abbiamo in tasca quindi la terra è fatta così se andiamo sulla luna è completamente diversa ma noi dobbiamo considerare la terra siamo qua e le rinnovabili richiedono risorse minerali perché se è vero che l'input extraterrestre è sovrabbondante l'abbiamo vista all'inizio io poi dalla luce solare me ne faccio giusto nel senso che io devo convertire e accumulare flussi rinnovabili e quindi mi servono paleoliche pannelli fotovoltaici batterie e tutto il resto e allora se andiamo a vedere i materiali critici per la transizione energetica questa è una tabella di McKinsey di qualche mese fa è interessante perché si vede ad esempio prendiamo una cosa semplice le reti elettriche per fare reti elettriche serve acciaio rame e alluminio direi che lo capiamo tutti perché stiamo a prendere un'auto elettrica di elementi ne servono molti di più quindi è un dispositivo molto più sofisticato e intensivo materialmente però attenzione attenzione perché in realtà il sistema fossile ha una maggiore intensità materiale e cerco di spiegarlo con questi numeri cioè per fare un megawatt di fotovoltaico al silicio occorrono 200 tonnellate di materiali circa un megawatt di fotovoltaico al silicio in 30 anni produce 40.000 megawattora di elettricità se voi volete fare la stessa elettricità usando carbone voi dovrete bruciare 14.000 tonnellate di carbone cioè 70 volte di più quindi il sistema tradizionale è molto più intensivo materialmente come quantità come qualità lo è meno perché il carbone è un materiale se volete povero molto ricco di energia ma un materiale povero invece tutti i materiali che vanno in una batteria sono molto più nobili anche se utilizzati in quantità molto più piccole come vedete queste proporzioni questi fattori 70 volte eccetera o in un pannello fotovoltaico quindi attenzione a non ingannarci tra quantità e qualità e ci sono differenze sostanziali in questi due approcci che cerco di spiegare con questi esempi se voi parlate di un'autotermica l'autotermica utilizza un solo prodotto di raffinazione del petrolio quindi di nuovo siamo un prodotto semplice in qualche modo e il rifiuto viene disperso in atmosfera tra l'altro c'è questo trucco maledetto della natura per cui noi convertiamo una roba liquida puzzolente e colorata in una roba assolutamente gassosa inodore e invisibile e questo per noi è tremendo perché pensate che convincere i politici prima e poi l'opinione pubblica che una cosa invisibile in odore e in colore fosse un problema grave e gravissimo per l'umanità è stato difficilissimo ci sono voluti decenni però noi quello che facciamo noi bruciamo sta roba semplice e buttiamo in atmosfera se prendiamo un'autobatteria è chiaro che questa è molto più sofisticata qui ci sono diversi prodotti però la mia auto elettrica che ho da 4 anni non mi abbandona mai la batteria viene sempre con me è sempre la stessa io non ho mai messo nulla di materiale dentro la mia macchina è sempre la stessa la batteria io ho bisogno di elettroni che vadano dentro la batteria e che posso produrre attraverso tecnologie rinnovabili cosa che certamente è facendola a casa mia come faccio io mentre qui certamente in cantina io difficilmente mi produco la benzina comunque qui non c'è nessuna dispersione questo è un sistema molto più sofisticato di questo ma chiuso chiuso quindi questo è un esempio di economia lineare in cui il rifiuto io lo butto in atmosfera e vado a distruggere il clima e questo è un esempio di economia circolare dove io posso debbo e posso prendere questa batteria disassemblarla e riciclare gran parte di quello che c'è dentro dopo averla utilizzata per decenni prima come uso nell'automotive e poi come come backup di rinnovabili quindi voglio sottolineare la grande differenza è vera la sofisticazione è vero che qui c'è roba preziosa ma c'è una differenza abissale poi c'è il problema del ritorno energetico noi abbiamo vissuto in una civiltà grandi ritorni energetici cioè se voi pensate al vostro distributore di benzina preferito c'è voluto un investimento energetico per passare dal pozzo di petrolio sicuramente in un altro continente sicuramente forse anche in mezzo al mare per arrivare fin lì c'è spesa energia per rendervela disponibile poi voi l'andate a comprare a caro prezzo e ve lo andate al mare e quindi c'è un output che è il servizio bene c'è un parametro che è il rapporto tra questi due numeri io non ho tempo di entrare molto nei dettagli mi piacerebbe ma non ho tempo che è il rapporto tra quello che voi ottenete e quello che voi avete investito bene quello che voi ottenete deve essere almeno 5 volte possibilmente 10 volte maggiore di quello che avete investito altrimenti è la lunga il sistema energetico mondiale va in difficoltà noi abbiamo vissuto un sistema energetico di grandi ritorni energetici cioè il petrolio saudita l'idroelettrico per decenni hanno avuto di ritorni energetici 40-50 qualcuno dice fino a 100 volte per quello che siamo cresciuti così in fretta e così bene per noi o meno per l'ambiente perché avevamo questi cioè abbiamo trovato questa cuccagna sterminata che era quella punta che io ho fatto vedere nella prima diapositiva un altro problema è il numero crescente di consumatori si potrebbero dire tante cose a riguardo semplicemente un numero nell'ultimo ventennio noi abbiamo aggiunto credo che qui ce lo ricordiamo tutti il 2000 ci vedo persone più giovani ma ce lo ricordiamo più o meno abbiamo aggiunto una Cina in più di popolazione quindi queste sono tutte persone che hanno diritto ad avere energia risorse e tutto quello che abbiamo noi e questo è un altro problema le disuguaglianze in un mondo globalizzato interconnesso le disuguaglianze sono un problema perché i poveri oggi sanno di essere poveri se voi andate in un villaggio africano gli manca tutto ma difficilmente gli manca un telefono cellulare con cui guardano guardano cosa succede dall'altra parte del mondo sanno cosa succede e tendono anche ad andare via perché perché se andiamo a vedere dei numeri energetici capiamo forse perché abbiamo certi flussi questi sono i dati del 2019 l'ultimo anno pre-covid il consumo mondiale pro capite annuale a persona dei cittadini del mondo è 1,8 tonnellate di petrolio equivalenti ed eravamo 7,6 miliardi se nel 2050 saremo 10 miliardi ammettendo di prendere quel consumo ideale di 2,8 che vi ho detto prima quello dopo il quale c'è solo dello spreco nel 2050 speriamo di essere più efficienti quindi 2,8 sia diventato magari 1,8 ma prendiamo 2,8 vuol dire arrivare a un consumo globale mondiale circa il doppio dell'attuale cioè se noi al 2050 raddoppiamo il consumo energetico abbiamo la possibilità di dare dignità energetica a tutti non è male come obiettivo non è che dobbiamo aumentare di 50 volte il consumo energetico raddoppiare è una bella sfida però raddoppiare come siamo messi siamo messi che in Nord America altro che 2,8 siamo a questi livelli anche in Europa siamo sopra l'Italia è un paese virtuoso l'Italia nonostante gli sprechi diffusi è un paese molto virtuoso consumiamo 2,6 dovremmo non muoverci più da lì possibilmente calare poi abbiamo la Cina la Cina è sotto è il più grande consumatore di energia ma il cinese medio consuma meno di noi attenzione quindi non è sempre la Cina un attimo 2,2 se andiamo a vedere questi paesi poi diciamo i numeri parlano da soli soprattutto questo ultimo allora la domanda è se io invece di avere 2,6 avessi 0,01 cosa farei provate a immaginare la vostra giornata con 260 volte meno energia fermatevi un attimo e pensatela a me verrebbe in mente di far così credo se avessi un telefonino che mi dice che sono posto dove si sta meglio quindi masticare i numeri energetici ci aiuta anche a capire meglio quello che accade cercando di parlare alla testa piuttosto che alla pancia noi abbiamo due dilemmi per una giusta transizione il primo è questo le risorse minerali che sono fondamentali per la transizione sono localizzate tutte a cominciare dal petrolio e dal gas che si trovano principalmente qua e qua il litio si trova principalmente in Sud America e in Australia le terre rare concentrate molto in Cina il cobalto in Congo potrebbero andare avanti cioè noi viviamo in un pianeta che se lo guardi dallo spazio non ha confini di nazioni è fatto così dove le cose sono a macchia di leopardo l'unica cosa disponibile un po' ovunque il sole il resto è macchia di leopardo ma ci serve sta roba qua quindi l'unica possibilità ma veramente l'unica possibilità e non è come dire un desiderio morale generico è una cosa molto pratica cioè o noi collaboriamo come paesi del mondo o noi non ne usciamo perché non c'è un solo paese che possa fare da sola transizione energetica tutti abbiamo bisogno di tutto e tutto è sparsi in giro a macchia di leopardo e su questo non ci possiamo fare niente però i danni poi sono invece delocalizzati la CO2 è una molecola stabile quindi vanno a colpire soprattutto queste persone che sono quelle che hanno meno colpa e anche questo è un altro problema di cui dobbiamo essere ben consapevoli in tutto ciò l'Europa noi possediamo quantità i risori di idrocarburi questo a beneficio di quelli che dicono che in Italia abbiamo l'eldorado del gas una cosa ridicola questa è la quantità in Europa di risorse mondiali di idrocarburi e un po' di carbone che abbiamo promesso di smettere di utilizzare e abbiamo poche risorse di quei minerali che dicevamo prima non ne abbiamo tanti ne abbiamo ma è anche difficile estrarle perché abbiamo un'altra necessità di popolazione quindi anche su questo bisognerà aprire un fronte comunque non ne abbiamo grandi quantità quindi noi viviamo la migliore qualità della vita al mondo chi ha girato il mondo lo sa che quello che noi troviamo qui fuori nel centro di Padova difficilmente lo troviamo in altre zone del mondo anche molto ricche cioè qui da noi si sta bene chi ha vissuto e abitato in altri luoghi del mondo lo sa quindi abbiamo tanti problemi ma la qualità della vita è elevata in Europa e in Italia del Nord soprattutto però la nostra invidiabile prosperità è basata su energie e risorse che provengono da altri continenti e non dobbiamo far finta di niente e l'Europa non lo fa infatti perché l'Europa vuol sempre fare la prima della classe per dire cerchiamo di andare d'accordo cerchiamo di fare questo perché siamo messi così e quindi noi abbiamo un'esigenza vitale di andare d'accordo con gli altri e di instaurare rapporti pacifici l'unica risorsa energetica abbondante che abbiamo in Europa è questa qua è la radiazione solare questa è la quantità di energia che colpisce il suolo europeo ed è un numero esatto che conosciamo perfettamente a differenza delle risorse di petrolio che sono molto aleatori questo numero perfetto conosciuto con una precisione impressionante altrettanto impressionante è la precisione con cui conosciamo quanta energia utilizziamo e l'energia che noi utilizziamo in Europa è lo 0,3% dell'input solare ora penso che qualsiasi politico con un minimo di assennatezza guardando questi numeri direbbe in effetti forse bisogna cominciare la transizione anzi forse siamo anche già un po' in ritardo e non abbiamo più tempo da perdere l'obiettivo dell'Italia 2050 questa è la diapositiva che vi dicevo all'inizio è questo che nel 2050 dovremmo avere il solare questa bella rigona gialla è sparito il petrolio del carbone la riga del gas è diventata molto piccola e questo lo scrive il governo italiano non lo scrivono dei pazzi ambientalisti quindi vedete questa cosa qui che quando la si diceva vent'anni fa venivi scambiato per un sognatore per un idealista per un radical chic e chi ne più ne ha più ne metta adesso lo scrivono i governi sono contento alla buonora però questo è il nostro obiettivo una considerazione finalissima è questa noi abbiamo vissuto e stiamo in parte vivendo ancora una crisi pandemica e come scrissi già nel mio libro del 2020 durante il lockdown quando eravamo tutti nell'incubo che questa cosa non sarebbe mai finita scrissi che le pandemie sono crisi a picco cioè non è mai scomparsa nessuna civiltà però è una pandemia e non è successo neanche stavolta quindi sono crisi a picco magari hanno ondate successive ma noi sappiamo già come funzionano così poi a un certo punto per qualche motivo si spengono questa è una crisi drammatica che abbiamo conosciuto bene purtroppo ma è una crisi molto più semplice di questa della crisi energia-clima che è invece una crisi che ha un profilo diverso una crisi a baratro noi non sappiamo se siamo già oltre il baratro nel quale lo scioglimento dell'Antartide per esempio è tale per cui ci sarà un innalzamento dei mari catastrofici non lo sappiamo potrebbe essere è probabile speriamo di no però siccome non lo sappiamo non abbiamo alternativa che è quella di correre come dei dannati per evitare e scoprire magari che noi siamo ancora qui siamo ancora in tempo per attaccarci a un filo d'erba e non precipitare nel baratro non esiste un vaccino contro la crisi energia-clima esistono solamente scelte lungimiranti e coraggiose io concludo dicendo che è molto difficile prevedere il futuro energetico ci sono stati scritti libri interi sugli errori fatti nelle previsioni energetiche quindi io non mi azzardo a dire con precisione come sarà il sistema energetico fra 20 o 30 anni e siccome noi non possiamo prevedere il futuro però sicuramente sappiamo qual è il nostro obiettivo e almeno dobbiamo cercare di farci che questo futuro sia possibile e non impossibile per i nostri figli e per i nostri impoti vi ringrazio per l'attenzione ecco noi ringraziamo ringraziamo il professor Armaroli per questa lezione molto stimolante molto densa come tutti abbiamo apprezzato quindi ti invito qui adesso penso che già ci sono persone che vogliono insomma siamo siamo tranquilli siamo rilassati penso vedo vedo delle domande dall'aula prego chi vuole fare domande da casa di segnalarlo in chat allora chi fa la domanda dice chi è poi fa la domanda prego buongiorno grazie sono Alberto Troccoli dal World Energy Meteorology Council di base in Gran Bretagna voglio ringraziare intanto Nicola per questa lezione stupenda c'era un'enorme quantità di materiale molto molto utile ovviamente ho diverse domande da farmi il limite a un paio lavorando anche nel settore una precisazione sulla parte verso la fine quando dicevi o diceva come vuoi dicevi dicevi sono abituato all'estero scusa dove dicevi della solare è tutto vero che la quantità di radiazione solare ovviamente che arriva in Europa è così la sappiamo bene tutto quanto bisogna però dire anche e poi commenterai meglio tu che lo spazio disponibile anche in quel caso è molto ridotto possiamo parlare del 10% forse quindi anche là ci sono limitazioni poi ovviamente comunque bisogna complementare con l'altra energia rinnovabile di cui hai parlato però in quella slide magari non c'era l'enfasi sull'eolico dove i paesi del nord stanno puntando molto per cui là ci sarà un altro apporto energetico molto grande la domanda comunque era più che altro sul bilancio parlavi dell'equilibrio quando hai fatto vedere verso l'inizio le slide dove c'era tutto il consumo a seconda delle nazioni dove c'è una disparità per la sorgente quindi gas carbone e petrolio che non sono allineati tra i vari paesi ovviamente la Francia è quello più disallineato tra l'altro io di solito cito il 70% qua mettevi il 40% quindi andrò a vedere anche le sorgenti forse questa era l'energia generale quella che dicevi tu era l'elettricità questa era proprio l'energia primaria sì perfetto e quindi sì fino a un certo punto c'è disallineamento perché immagino che comunque a parte il nucleare le altre fonti sono abbastanza le centrali alla fine sono simili cioè non so dal punto di vista tecnico non lo so ma trasformare una in carbone piuttosto che gas piuttosto che petrolio è molto più semplice che trasformare una nucleare quindi magari un po' di transizione c'è là ciò nonostante vogliamo spostarci ovviamente da quello però quella l'idea che hai dato sembra abbastanza frammentare mentre ci abbiamo delle politiche europee che sono abbastanza forti il Green Deal per esempio non è stato menzionato e comunque questa spinta alla rinnovabile in ogni caso quindi volevo chiederti di commentare magari su queste cose grazie volentieri allora sicuramente c'è la possibilità di convertire una centrale a carbone o a gas più facilmente però sono tutti processi molto lunghi molto costosi attualmente con le prospettive di investimento che ci sono non è una prospettiva diciamo concreta se pensiamo ad esempio al dibattito che c'è stato sotto a Sonomia abbiamo fatto una fatica incredibile e ancora il dibattito non è concluso quindi intendevo dire appunto che quando si vanno a prendere tecnologie che contribuiscono molto gas e nucleare c'è un dibattito che va avanti da mesi e mesi forse anche da più di un anno e sul quale non si riesce a trovare un accordo proprio perché ci sono paesi che sono arci nemici del nucleare per ragioni storiche l'Austria è un caso unico l'Austria ha già promesso di fare causa alla Commissione Europea se renderà il nucleare diciamo inserire il nucleare nella tassonomia perché perché è un paese che storicamente è stato scioccato da Chernobyl furono particolarmente colpiti in quelle settimane per una questione di venti e quindi è il paese più antinucleare al mondo probabilmente quindi pensare a questa situazione ti fa capire come sia difficile mettersi d'accordo la dipendenza degli idrocarburi è chiaramente la solita per tutti quanti se le mettiamo insieme però come facevo vedere prima siccome gas e petrolio soddisfano settori diversi se tu hai una prevalenza del gas rispetto al petrolio già questo rendi due sistemi non proprio perfettamente allineati quindi il sistema energetico come tu sai bene è un sistema che ha un'inerzia incredibile quindi quando noi vogliamo cambiarlo in realtà ci vuole tempo cioè quando io ho l'auto elettrica quando mi trovo in mezzo in autostrada a migliaia di autotermi che dico ma quanto ci vorrà per sostituire questa massa cioè bisogna essere concreti quindi sono sistemi che hanno una grande inerzia quindi è anche per quello che tendo a sottolineare che delle differenze attuali magari che appaiono minimi ma in realtà nella concretezza di una transizione che deve essere veloce possono diventare un ostacolo importante non mi ricordo la prima domanda me la puoi accendere velocemente? ah sì le superfici le superfici sì sì no il Green Deal è certamente un'azione che va nella direzione di innanzitutto elettrificare molto e questo credo che sia un accordo generale per elettrificare molto bisogna farle rinnovabili quindi da questo punto di vista l'Europa è abbastanza concorda anche se alcuni paesi dell'est diciamo tirano un po' indietro anche lì si fa un po' fatica di nuovo siamo prima del resto siamo una comunità che parla venti lingue diverse e quindi è inevitabile che non sia facile trovare trovare un accordo per le superfici è verissimo innanzitutto io ho fatto vedere il numero della radiazione solare per far capire appunto che il flusso è sterminato che poi a sua volta genera il flusso dei venti genera il flusso le correnti marine parte delle correnti marine eccetera scalda il sottosuolo nei primi metri che anche quello sarebbe appunto si diceva prima molto importante e quindi la risorsa la risorsa è importante quindi non facevo un riferimento diretto sul fotovoltaico perché chiaramente fare un sistema come dire 100% fotovoltaico non avrebbe molto senso per ovvie ragioni però ecco volevo sottolineare il fatto che la risorsa è enorme ed è stata largamente sottoutilizzata e anche il repower EU ci dice questo per tornare alle decisioni europee no abbiamo un po' dormito quindi adesso bisogna che queste cose le facciamo davvero altra domanda prego poi abbiamo anche alcune domande dal pubblico collegato via zoom allora facciamo altre due domande dalla sala e poi andiamo al pubblico grazie buongiorno sono Enzo Menna Dipartimento di Scienze Chimiche grazie Nicola come sempre ci hai dato un sacco di spunti di riflessione si potrebbe star qui a ragionare un sacco di tempo ti chiedo una questione un commento su una questione diciamo specifica tu hai accennato giustamente alle fluttuazioni stagionali o da una giornata all'altra per quanto riguarda la radiazione solare eccetera per quanto riguarda le fluttuazioni giornaliere giorno-notte come vedi la gestione delle rinnovabili in un ottica di un uso diffuso anche nelle abitazioni eccetera al di là della batteria della macchina grazie sì ti ringrazio per questa domanda Enzo perché io vivo da un mese in una casa con 10 kilowatt di fotovoltaico e 24 kilowattora di batteria quindi comincio a avere una percezione diretta di quello che è avendola vista in funzione c'è una pompa di calore geotermica c'è il solare termico quindi sono molto contento di queste cose come si diceva prima purtroppo le pompe di calore geotermiche non sono abbastanza diffusi in questo paese bisognerà a creare una cultura in questo senso perché sono una risorsa straordinaria vedo che una casa tutta elettrica è una casa nonostante abbia sia un abbia una certificazione altissima che comunque consuma elettricità perché è tutto elettrico quando scaldo il latte alla mattina mi attacco alla batteria quindi io penso che davvero una soluzione chiave sia quella delle comunità energetiche che stanno nascendo piano piano lentamente ma bisogna che questa autoproduzione che già è migliorata con l'accumulo individuale però non basta bisogna che la produzione e l'accumulo individuale di vicini di casa di quartieri di zone diventi veramente perché a quel punto aumentando la varietà delle persone degli utilizzi degli usi quotidiani tu puoi veramente mediare e avere il sistema molto più in equilibrio ok è chiaro che io e la mia famiglia di giorno non ci siamo la batteria quando arriva a casa la sera è carica 24 kilowattora però ti assicuro che pur essendo 24 kilowattora con una casa tutta elettrica quando fa molto caldo alla mattina è quasi secca quindi insomma io penso vedendo questo impianto in funzione credo che le comunità energetiche dovranno essere veramente sviluppate in maniera molto estesa per far sì che il sistema regga a cominciare dal basso prego sì Andrea Lazaretto insegno sistemi energetici in questa università allora e molte grazie per la presentazione che ho trovato straordinaria per i contenuti per le idee e quindi per tutti gli spunti che che si possano ottenere da essa la mia domanda riguarda mi sembra che lei creda nell'elettrificazione e in particolare dei trasporti riferendomi ai trasporti è la cosa da fare prima cioè è una delle azioni da fare immediatamente o ci sono delle azioni prioritarie di altro tipo chiedo scusa se fossimo paradossalmente in grado di fare subito un'elettrificazione immediata di tutti i trasporti dovremo ovviamente diciamo avere a disposizione dell'elettricità quindi bruciare molti combustibili penso in Italia consumiamo l'ottanta per cento circa l'ottantotto per cento ancora viene da combustibili fossili di consumo e quindi guardando la catena energetica complessiva otterremo dei rendimenti probabilmente più bassi che non usare i motori termici nelle auto oltre ad avere il problema di una potenza installata molto più alta per la ricarica delle batterie quindi la prima questione è siamo sicuri che sia così importante elettrificare subito i trasporti questa è la prima questione la seconda riguarda esiste fra le azioni anche governative una un piano se chiedo scusa un piano serio per razionalizzare i consumi cioè le comunità energetiche sono un'idea le comunità energetiche servono per diciamo potrebbero servire primariamente per appiattire i picchi però diciamo se non cambiano le abitudini non cambiano i consumi difficilmente riducono i consumi quindi lei ha detto giustamente come azioni immediate possiamo risparmiare 7-8 miliardi di metri cubi diciamo di gas in particolare sugli usi domestici o su facendo azioni però al di là dell'immediato esiste un piano di razionalizzazione vero dei consumi che è una delle poche soluzioni possibili che lei ha delineato quindi sono due questioni insomma uno i trasporti primo e i trasporti dopo e qui c'è anche legato il problema del riciclo effettivo dei materiali per quale io non sono così non so se le batterie possono essere riciclate così facilmente quindi e l'altra è esiste o se ha delle idee in merito ad un piano di razionalizzazione dei consumi grazie grazie per queste belle domande allora parto dalle batterie perché affinché ce l'ho in mente l'elemento più riciclato oggi in Europa è il piombo perché perché deriva dalle vecchie batterie al piombo io mi ricordo negli anni 80 quando si pensava a questo problema si pensava come un problema insormontabile in realtà di fronte al problema abbiamo trovato la soluzione e oggi perché il piombo è estremamente pericoloso come ben sappiamo quindi la più grande storia di successo del riciclo oggi storicamente è stata sulle batterie e sulle batterie al piombo quindi non c'è nessuna ragione di sospettare che fra dieci anni per fortuna abbiamo tempo anche per adeguarci noi dieci minimo non saremmo in grado di avere la capacità di riciclare perché sarà nell'interesse stesso delle aziende il signor Musk nella sua Gigafactory in Nevada da di fianco ha cominciato a preparare il cappannone dove cominceranno ad accumulare le batterie da cui ricicleranno gli elementi per le batterie nuove e loro hanno dei claim che dicono che riciclano sono già in grado di riciclare il 92% delle batterie che rientrano che hanno fatto dei primi test quindi io su questo chiaro rientriamo nella dimensione delle previsioni però sono abbastanza ottimista che questo problema tecnicamente che non abbiamo oggi non abbiamo le batterie oddio abbiamo già tante batterie piccole anche perché si sta cambiando progressivamente il modo di costruirle cioè noi oggi abbiamo pensato le batterie ma come tutti gli oggetti cominciare delle magliette che abbiamo andossi da questi computer perché fossero efficienti da utilizzare poco costosi ma la nostra idea si fermava al momento in cui la utilizziamo noi stiamo pian piano mettendo insieme quest'idea che un oggetto deve essere considerato in tutto il suo tempo di vita quindi adesso come adesso non ce n'è bisogno in maniera estesa sono abbastanza ottimista che si possa fare anche sulla base della storia del piombo per quanto riguarda il piano a mia conoscenza non c'è le posso dire che appunto avendo questa questa collaborazione a livello ministeriale è molto difficile quando arrivi a quei livelli decisionali trovare modo di presentare piani che vadano verso una maggiore la vogliamo chiamare col suo nome sobrietà cioè quel piano che abbiamo presentato indica esplicitamente e faremo ulteriori approfondimenti che per fare in modo che il sistema dei trasporti italiano stia in piedi bisognerà non bisognerà avere 40 milioni di automobili nel 2050 non ce lo possiamo permettere punto e forse non ha neanche senso averle avremo anche tra l'altro una questione demografica con cui ci dovremo confrontare quindi noi abbiamo assunto che nel 2050 non ci saranno più di 24 milioni di automobili poi vedremo poi vedremo perché poi nel frattempo il sistema dei trasporti evolverà si spera c'è anche il processo dell'urbanizzazione che è in corso in tutto il mondo quindi noi siamo un po' una provincia adesso rispetto ai grandi ai grandi ai grandi bacini demografici per quanto riguarda la priorità nei trasporti io credo che la priorità siccome abbiamo fretta il titolo della della conferenza era non abbiamo più tempo dobbiamo fare le cose che sappiamo già fare e le cose che sappiamo già fare per esempio sono due importanti alla luce anche di quello che è accaduto oggi anzi mi verrebbe da dire tre sono pompe di calore solare termico e autobatteria che ci sono nei autosaloni poi è chiaro che l'autobatteria il cambiamento avviene anche qui su una scala che non è immediata quando si dice mettiamo il sistema stanno discutendo stanno votando forse in questi minuti se bandire l'auto termica al 2035 ma è un'esigenza non abbiamo alternativa a questo nel 2035 è fra 13 anni chi compra una macchina oggi la userà più o meno 13 anni quindi stiamo ancora nella logica che continueremo a comprare auto termiche quindi questa uscita è inevitabile cioè noi non ci possiamo più permettere di buttare l'80% del petrolio dentro i motori termici dobbiamo fare in modo di calare drasticamente questo anche perché lei dice ma se io faccio le considerazioni che alla fine un'auto elettrica è meno efficiente a parte il mio caso diciamo estremo che me lo faccio sul tetto di casa quindi ha un'efficienza imparagonabile a qualsiasi altra opzione non è da tutti però io il petrolio come ho fatto vedere in quella slide con le ROI cioè tipicamente quello che mi arriva al distributore di benzina viene da un altro continente quindi dietro c'è un consumo energetico che non compete al mio paese non compete mai direttamente ma che è importante quindi la produzione rinnovabile che sarà sempre più localizzata e sarà sempre più intensa perché questi sono i piani e da lì non si scappa farà sì che quella differenza che c'è già oggi in tutti gli studi LCA più approfonditi che dimostrano che le emissioni dell'auto a batteria sono nettamente inferiori addirittura lo sono inferiori non nettamente ma di un po' anche col portafoglio produttivo cinese o indiano bisogna andare in quella direzione in Europa in Italia dove quasi il 40% è rinnovabile l'emissione sul ciclo di vita di un'auto elettrica è meno della metà di un'auto termica quindi dove vogliamo andare io penso che sia una strada inevitabile poi è chiaro che non possiamo forzare velocemente adesso tutti con l'autobatteria anche perché avremo un altro collo di bottiglia ce ne sono tanti ne ho citati su alcuni noi abbiamo 200 paesi in transizione energetica quindi dobbiamo fare una quantità spaventosa di pannelli fotovoltaici paleoliche pompe di calore batterie che più ne ha più ne metta quindi al di là della disponibilità materiale minerale sulla terra sul quale io sono da chimico relativamente ottimista ho anche studiato un po' questo problema tutto sommato forse non è quello il limite il limite è la capacità industriale cioè noi riusciremo a fare centinaia di gigawatt terawatt e terawatt in 10-20 anni velocemente cioè abbiamo la capacità industriale per farlo su questo l'Europa si deve interrogare perché questa idea che noi abbiamo delegato a cominciare dai chip per passare ai pannelli fotovoltaici alle batterie e tutto il resto tutto quanto alla produzione asiatica perché tanto poi arrivava il container che ce lo portava in Europa e adesso il container costa e tanto è stata una strategia perdente quindi da questo punto di vista bisogna aprire molti fronti di cambiamento veloce perché non abbiamo più tempo ah certo certo ma ma questo sono d'accordo però stiamo attenti perché l'abbiamo fatto cioè noi viviamo in questo sistema da 20 anni e nessuno ha mai obiettato però quando salta fuori l'automobile tutti i gala lo fanno in Cina e io dico ma anche questo computer quello quel dispositivo questa sedia su cui siamo seduti forse l'abbiamo fatto in Cina gli abiti che abbiamo addosso cioè è un problema che non riguarda solo l'automotive riguarda tutto il sistema produttivo e su questo dobbiamo interrogarci abbiamo un paio di domande dal pubblico su Zoom la prima viene da Emanuele Fornasieri uno studente dell'Università di Padova che è una domanda sui problemi dell'intermittenza delle rinnovabili che forse in parte è già stata affrontata da una domanda dal pubblico comunque Emanuele chiede ipotizzando di incrementare di molto l'utilizzo dell'energia solare come pensa che si possano risolvere i problemi dell'intermittenza di tale fonte e abbiamo parlato dell'intermittenza e dell'accumulo giornaliero sarebbe interessato anche Emanuele a sapere qualcosa sull'accumulo a livello stagionale grazie prego dunque sull'accumulo stagionale come dicevo prima una delle prospettive importanti è sicuramente quella dell'idrogeno sulla quale io la gente mi dice ma tu sei contro no io ci lavoro sull'idrogeno c'è un'attività di ricerca anche su questo però sono contrario a questo ottimismo per cui l'idrogeno ce l'abbiamo domattina non abbiamo voluto le rinnovabili l'ho detto prima scusate se mi ripeto non le abbiamo volute fare in fretta non abbiamo l'idrogeno non è che da lì si possa uscire quindi ecco l'accumulo stagionale sarà importante da mettere dove ecco questo è un altro problema che mi sarebbe cominciare ad affrontare si parla ad esempio di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno dipende che uso ne facciamo perché stoccare in maniera sotterranea l'idrogeno può darsi che i siti esistano su questo bisognerà verificare soprattutto in un paese sismico come l'Italia perché ogni volta che vai a iniettare i fluidi nel sottosuolo non è indifferente diciamo l'idrogeno che mette nel sottosuolo si sporca cioè il sottosuolo non è un ambiente particolarmente assetico non è una bombola di acciaio come abbiamo nei nostri laboratori e quindi quello difficilmente poi lo potrai andare a utilizzare in una cella combustibile che richiede una purezza straordinaria per evitare di avvelenare il catalizzatore e tutto quanto il sistema quello forse lo potrai utilizzare per usi termici dove per uso termico io eviterei l'uso per scaldare gli ambienti ecco per rispondere alla domanda l'accumulo stagionale probabilmente richiederà anche lo stoccaggio sotterraneo però poi a quel punto l'utilizzo dell'idrogeno non sarà andrà indirizzato in certi scopi e per quanto riguarda l'acumulo stagionale chiaramente mantenere le centrali termiche che bruciano l'idrogeno magari in combinazione diretta con l'ossigeno possono invece di usare l'aria potranno essere quelle che fanno da backup nei periodi invernali nelle giornate grigi che qui in pianura padana conosciamo bene ecco su questo c'è tutto un fronte mi aggancio visto che siamo sul tema dell'accumulo per farti una domanda cosa ne pensi dell'utilità dei sistemi di pompaggio per l'accumulo e poi c'è ovviamente tutta una galassia di sistemi che sono ancora allo studio per l'accumulo sia giornaliero che stagionale che vanno dalle batterie al sodio oppure addirittura anche i metalli reattivi come l'alluminio che si sta studiando anche cosa si può fare su quel fronte non sarebbe però il caso di provare visto insomma il previsto la prevista crescita delle rinnovabili pensare in maniera un po' più organica a strutturare anche un piano per l'accumulo come ci stiamo muovendo su questo fronte l'Europa sta facendo abbastanza l'Italia sta facendo abbastanza diciamo che l'Europa ha cominciato l'Italia non vedo grandi segnali per il momento ma seguiremo diciamo i dettami europei un aspetto importante che hai citato è questo del batteria al sodio io francamente ero abbastanza scettico confesso l'ho anche detto pubblicamente fino a due anni fa su questa prospettiva in realtà le batterie al sodio che avranno la necessità di energia inevitabilmente più bassa di quella delle batterie al litio però stanno sviluppandosi aperto un impianto di produzione negli Stati Uniti in questi giorni che credo sia il primo di una certa stazza e quindi è una prospettiva industriale che sta nascendo ora pensare batterie al sodio che prendano piede sarebbe veramente una rivoluzione perché il sodio c'è ovunque a cominciare ovviamente dai mari e permetterebbe addirittura di accoppiare un'altra azione di cui abbiamo bisogno disperato che è soprattutto in certe zone del mondo che è la dissalazione dell'acqua quindi dissalando l'acqua noi prenderemo quel sodio che ci serve per fare le batterie e produrremo acqua dolce per chi ne ha bisogno e saremo sempre di più ad averne bisogno quindi vedete che si aprono anche prospettive da questo punto di vista molto molto interessanti la batteria al sodio ha un volume maggiore quindi attualmente anche i modelli che si pensano più avanzati non sarebbero adatti per l'automotive perché non sarebbero compatibili con la maggior parte delle macchine diciamo invece per quanto riguarda le rinnovabili che è un container che tu metti fuori in un piazzale da quel punto di vista le richieste le necessità di volume sono molto più limitate quindi la prospettiva è molto importante molto importanti sono anche i pompaggi che in Italia attualmente sono sottutilizzati ma per ragioni storiche cioè i pompaggi venivano molto utilizzati quando noi avevamo una grande produzione termica di giorni e di notte per cui di notte le centrali continuavano a funzionare anche se la domanda era in calo per far sì di pompare l'acqua da bacini a quota più bassa a bacini a quota più alta l'avrete visti tutti quei tubi lungo certi crinali di montagna che fanno questo questo gioco attualmente però questo viene utilizzato meno perché l'utilizzo della parte termica in Italia è diciamo non ha necessità diciamo così non c'è questa necessità di picco che c'era 30 anni fa perché oggi il picco in una giornata come oggi lo sta facendo il fotovoltaico è stato sul sito di Terna vedrete che attualmente il fotovoltaico sta tirando al massimo una giornata bellissima come oggi in giugno quindi siamo al top e quindi non c'era bisogno dell'accumulo di ieri sera perché abbiamo abbondanza di fotovoltaico quindi questi pompaggi sono sotto utilizzati in un momento ma proprio per ragioni strutturali invece torneranno ad avere importanza negli anni a venire quindi anche questa è un'opzione assolutamente importante abbiamo tempo per un'ultima domanda ce n'è un'altra questa viene da Michele Trassinelli è una domanda che ha a che fare con l'economia circolare vorrei chiedere se ritiene fattibile una rapida costruzione di un'efficiente economia circolare per le tecnologie elettroniche funzionali e la transizione energetica tenendo in considerazione delle enormi difficoltà di raccolta e trattamento dei rifiuti nei paesi in via di sviluppo cita anche un dato l'Africa nel 2019 pare abbia riciclato solo lo 0,9% degli e-waste che ha prodotto e a livello mondiale siamo intorno al 17% dei rifiuti elettronici ed elettrici prodotti questo è un fronte completamente aperto chiaro che questi numeri sono deprimenti naturalmente in paesi come i paesi africani ma non solo anche asiatici mi è capitato di visitare questi problemi sono diffusi ma al di là del rifiuto elettronico c'è anche il rifiuto quotidiano io ho visitato la zona dell'Indonesia in cui i fiumi vengono utilizzati come discarica di rifiuti perché passa il fiume che porta l'acqua quindi siccome la porta via dai miei occhi la porta via poi si accumula tutta nei porti e va a fare le isole di plastica marcinese eccetera quindi purtroppo questa situazione dell'Africa diciamo è una situazione di cui dobbiamo farci carico perché per il momento è solo un deposito di risorse per tutto il resto facciamo finta di niente infatti siamo corsi anche a cercare il gas quindi su questo le prospettive sono che sarà un'industria in fortissima espansione è inevitabile che sia così è un'industria che consuma energia è un'industria che deve diventare molto più efficiente e noi dovremmo essere come sistema industriale italiano essere pronti su questo perché noi come manifatturiero non abbiamo da imparare niente da nessuno quindi credo che è una grande opportunità di sviluppo però anche questo bisogna discuterlo a livello europeo la new battery regulation va in quella direzione e speriamo che qualcosa si faccia concretamente bene allora siamo arrivati anche oltre il termine che avevamo stabilito quindi ringrazio ancora ringraziamo ancora il professor Almaroli per questa lezione per la sua disponibilità a rispondere alle nostre domande io penso adesso siamo per chiudere quindi chiudiamo se qualcuno di voi ha disponibilità peer to peer potete contattarlo un attimo con i cinque minuti però io chiuderei questo questo incontro e sappiate che il centro Levicades fino a che ci sono io come direttore è perfettamente allineato su queste su queste traiettorie e poi noi siamo un centro scientifico e quindi poi insomma gli scienziati dicono qualcosa i politici fanno le loro scelte va bene grazie ancora e grazie anche da casa chiudiamo il collegamento grazie a tutti